ha detto piano con calma è già sparito è già sparito della serie lui è a pila noi adesso usciamo sul sentiero ma hai visto gente che trasla in avanti ma lupa del bello ma sembra avvento la provincia nuova scusa bisogna guidare così alla cieca oh oh questa è bastarda ci dividiamo in due perché sinistra? eccolo lì o stecca ti aveva detto di non andare a sinistra? non lo so ma noi andiamo a sinistra questo è un video da antologia signor non lo so ma la parola si che c'è la parola a sinistra mi va a vedere cosa c'è la prima e dopo di sinistra wow nel senso che a destra è la più brutta non lo so ma non lo so ma non lo so ma vabbè ovviamente cambiamo a poco però non mi è piaciuto oi mi fermo e arriva già ah per terra ah 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 ti fa sempre cambiare